Buona giornata. Scusare il male e moltiplicarlo. Spesso abbiamo proprio questo atteggiamento nei confronti non solo del male fatto ma forse anche di quel male che è lì, fermo, è lì che c'è però non ci disturba tanto, è quel male che compiamo ma in fondo in fondo non siamo così feriti, non siamo così feriti e lo lasciamo così, però è sempre male dare un nome alle cose, però è sempre male ed è proprio vero che nel momento in cui scuso il male lo moltiplico, lo rendo più evidente, ha degli effetti altrove che forse non avrei mai immaginato. Allora anche oggi può essere l'occasione per evitare il male e fare il bene così come la coscienza che ognuno di noi ci suggerisce là nelle situazioni dove siamo e là dove viviamo. Allora che questo moltiplicare sia rivolto al bene e sappiamo e ognuno di noi sa come compierlo. Il Signore ti illumini, buona giornata.